ciao a tutti oggi vorrei realizzare insieme a voi dopo aver realizzato la volta scorsa l'alberello eccolo qui vi lascio sopra nel pallino il tutorial e vorrei realizzare con voi in cristallo di ghiaccio sopra Grazie per la visione Grazie per la visione Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lame, misfortune seemed his not He got into a drifted bank and then we got upsot Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Questo è il risultato finale Ho inserito degli strass e qualche filino di nero Per far risaltare gli rametti all'interno del cristallo di ghiaccio Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto Vi aspetto al prossimo video Vi aspetto al prossimo video Vi ricordo di seguirmi sui social Vi lascio giù nel box tutti i link Grazie, a presto, ciao!